Inizio con il dichiarare che in tutto ciò che ho fatto di buono o di cattivo durante tutta la mia vita sono certo di avere avuto tanto meriti quanto demeriti e che di conseguenza io devo credermi libero. L'uomo è libero ma non lo sei, non credi di esserlo e diventa schiavo quando si decide ad agire quando una passione laggica. La mia vita è libero ma non lo sei, non credi di essere che la mia vita è libero ma non lo sei, non credi di essere E se all'è, all'uva, chi soffre la possa, E l'enfortuna me è, onor, allende, E l'enfortuna me è, onor, allende, e la tua cofnea, e l'enfortuna me è, onor, allende, e l'enfortuna me è, onor, allende, Grazie a tutti. Vedrai che ci rido e se sei indulgente non riderai con me. So che sono esistito e ne sono certo perché ho provato senza risposta. Detesto la morte. Felice o disgraziata, la vita è il solo tesoro che l'uomo possiede. E quelli che non l'amano non ne sono degni. La morte è un mostro che caccia dal grande teatro uno spettatore attento prima che uno spettacolo che l'interessa infinitamente finisca. La morte è un mostro che l'uomo possiede. Il Stoff è unerscuff 줄. È un Wahnsinn. È un' ordine. È un' depressione. È un' empoweringe. Unerklärliche Liebe, Göttin der Natur, reizendes Ungeheuer, das man nicht zählen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un giorno ho impedito la nera tristezza di uccidermi o di farmi perdere la ragione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.